salve a tutti in questo video tutorial vedremo come si può disegnare con Inkscape perché questo video tutorial appunto perché Inkscape è vettoriale e fino poco tempo fa vedevo i programmi vettoriali come programmi che avrebbero fatto fatica per la mia mentalità a fare vede i propri disegni e invece adesso con alcune tecniche che vi farò vedere che sono molto ma molto semplici è possibile disegnare anche molto bene con programmi come Inkscape allora Inkscape è già aperto io so già come verrà il mio disegno quindi proprietà documento ribalto il di foglio quindi io metto l'orizzontale ok ingrandisco un po' ingrandire basta fare control e scroll centrale del mouse ok adesso per disegnare si usa la penna questa è la penna allora il disegno che faremo è cappuccetto rosso ha ha cappuccetto rosso allora si inizia col cappuccio tac 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 si fa un bel triangolo questo triangolo qui adesso è un triangolo e basta invece se si seleziona i punti e si sceglie e arrotondarli almeno questi due in basso devono essere arrotondati e se arrotondiamo anche quest'altro ok eccolo qua è venuto il cappuccio di cappuccetto rosso adesso li selezioniamo lo abbassiamo un po' lo allarghiamo ok lo tiro così ok adesso questo viene con riempimento rosso e anche il contorno rosso ok questo è il cappuccio di cappuccetto rosso adesso più o meno sempre con la penna andiamo a disegnare cosa un altro triangolo anzi facciamo un bel rombo ok quest'altro non mi serve perché l'ho fatto in più per sbaglio ok selezioniamo il nostro rombo ok selezioniamo e facciamo tutti i lati ok adesso lo strociamo non così ok così lo allarghiamo un po' siccome questa è la faccia proprio di cappuccetto rosso allora il bordo nero mi sta bene ma interno gli erudiamo rosa quindi interno rosa ok abbiamo più o meno è un più o meno adesso sto regolando un po' la faccia allora ricordatevi che se avete sbagliato qualcosa non dovete per forza cancellare questo è il punto qua non si vede ma ci sono delle maniglie come delle curve di benzie e potete comunque modificare la vostra immagine state facendo per questo all'interno ed è solo la faccia di cappuccetto rosso e più o meno mi sta bene così adesso ci serve fare i due occhi erano sempre stavolta usiamo un cerchio facciamo un bel cerchio che è venuto con un bordo rosso che non ci serve quindi diamo un contorno nero e il bordo glielo diamo allora guardate sulla nostra destra ci sono una serie di menu adesso ci serve il menu riempimento e contorni ok e vediamo questo riempimento e il contorno ma dovremo vedere anche la sfumatura e tutto il resto anche linea la linea distribuisci ok mi serve quello del 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 imprimimento in contorni eccolo qui abbiamo una linea che è troppo larga diciamo perché il cerchio della nostra il nostro occhio deve essere veramente fino allora basterebbe fare così tasto destro e tra oggetto e qua non c'è niente interessante contorni riempimento e contorni il contorno eccolo qua diciamo 1 e abbiamo la nostra linea più corta ok adesso che abbiamo fatto cioè la linea più stretta adesso abbiamo fatto il cerchio possiamo dire anche la virgola 1,5 la facciamo ancora più piccola ok e gli diamo l'interno bianco ok questo è il nostro primo parte dell'occhio poi ne facciamo un altro ok un po' più piccolo ok lo facciamo con l'interno nero lo spostiamo all'interno dell'occhio quindi abbiamo il nostro occhio creato allora una cosa che si può fare è selezionare due oggetti si selezionano quello shift selezionando due oggetti poi si può fare tasto destro e raggruppa i due oggetti e raggruppando l'oggetto i due oggetti diventano uno solo ed è possibile spostarlo assieme ok a noi serve perché adesso faccio copia e incolla si può fare il secondo occhio poi un'altra cosa che può essere interessante l'occhio l'ho messo giusto alla stessa altezza qua ho la mia barra millimetrata posso tirare giù una linea e vedere che effettivamente il secondo occhio è da tirare un po' su ok così almeno ce l'ho in linea con l'altro occhio si possono tirare barre in questo modo qui poi premendo sul pallino della barra si può portare verso l'alto e sparisce anche la barra adesso abbiamo creato solo la faccia con i due occhi adesso proviamo a creare la bocca facciamo una specie di boomerang allora ho sbagliato tool prendiamo penna ok ci siamo questo dovrebbe essere la bocca ma adesso noi cosa facciamo di questa roba qui prendiamo prendiamo questo e lo eliminiamo scusate ho premuto cance il posto le stampe il posto di cance eliminiamo anche questo ok adesso qua è venuta e facciamo contorno il riempimento nero ok più o meno questa potrebbe essere la nostra bocca poi come avete visto prima se io seleziono qui ho i nostri i nostri vanigli possiamo allargare e modificare la nostra bocca come il più ci piace adesso lo sto facendo prettamente a caso ok questa è la nostra bocca ok questa è la bocca del nostro cappuccetto rosso bruttissima perché sto facendo tutto al volo senza essere preparato prima ho fatto un cappuccetto rosso prima ma non sto replicando esattamente quello che ho già creato poi volendo si può creare anche il naso perché non ho visto un cappuccetto rosso senza il naso allora sempre quel tool penna crea un triangolo ok poi lo facciamo magari non nero ma rosa un po' più scuro di riempimento ok gli diamo anche il riempimento dentro del contorno quindi così adesso seleziono il punto questo vediamo se gli diamo questo ok e abbiamo un naso da così mi va più che bene per me l'idea era del naso e questa ok il naso ok abbiamo creato la nostra faccia completa col cappuccio di cappuccetto rosso allora volendo essere fighetti possiamo fare delle guance un po' più un colore più acceso di cappuccetto rosso allora prendo lo strumento elissi creo un elisse così e mi va bene anche il colore ok e ne creo un altro anche qua oppure come abbiamo fatto prima seleziono questo elisse faccio copia incolla e lo trascino di qua ok abbiamo fatto due altre elissi e abbiamo le guanciotte di cappuccetto rosso adesso proviamo a disegnare il vestito allora cappuccetto rosso ha una mantellina allora sempre con lo stesso tool e vedete il disegno sempre oggetti squadrati ok poi vado su modifica tracciati e gli dico ai tracciati che mi servono selezionandoli ok vedete cosa è successo così diventato e anche così non mi serve però mi serve questo ok così ho fatto diventare questi scelgo la parte di tracciati che voglio modificare per creare la mantellina è quello che devo creare allora aspettate un attimo che c'è qualcosa che non mi piace adesso devo muovere questo così ok adesso qua allargiamo un po' questi perché vedo è il collo che è troppo vicino ok già così mi sembra un po' meglio questa è la mantellina di cappuccetto rosso allora diciamo che la mantellina è anch'essa rossa quindi facciamo riempimento così però la lasciamo col bordo nero allora la mantellina è momentaneamente sopra la testa del cappuccetto rosso però se noi selezioniamo il tool trasforma qua abbiamo nel pulsantiera principale possibilità di mettere in fondo e la mantellina di cappuccetto rosso è andata in basso allora l'altra cosa che ha cappuccetto rosso è una gonnellina allora facciamo la gonnellina di cappuccetto rosso ok questa è la nostra gonnellina il cappuccetto rosso questo non serve ok la facciamo nera scusate se non seleziono cosa cavolo mette il nero non lo so ok adesso diamo sempre sul tool i punti prendiamo questi due ok abbiamo più o meno la nostra mantellina ok selezionando i due si possono muovere in maniera speculare uniforme tutti e due adesso provo non lo so no questo non mi serve quindi lo lascio come era prima che è questa la nostra mantellina adesso servirebbe creare due manine allora un attimo solo che questo lo tiro più in dentro e anche qui così è lo spazio per creare le mani braccia e mani di cappuccetto rosso allora facciamo prima quel solito tool penna non è questo questo pennino ma serve l'altro tool scusate che ho sbagliato il pennino allora con questo ok un dito due tre quattro cinque e vai allora questa è la mano allora fatta così mi va benissimo gliela facciamo rosa ok questa è la nostra mano rosa adesso cosa facciamo se vogliamo essere preciso ho preso un colore a caso voglio quello della faccia allora ho silenzionato questo qua sotto ho contagocce paf ho preso il contagocce l'ho messo e adesso posso fare per esempio riempimento ce l'ho e il contorno adesso vediamo contorno sarà questo più chiaro ok e ce l'ho fatto adesso la mano è troppo grande troppo lunga il braccio allora lo sparo un po' più su poi lo metto sotto eccola qua questa è la nostra manina rispetto a cappuccetto rosso mi sembra più o meno corretta ah ok quando vedete che l'oggetto si attacca i punti perché a meno a me capita quando c'è poco ingrandimento quindi devo ingrandire un po' di più allora posso spostarmi con più facilità senza attaccarmi ai punti allora questa è la mano se faccio ctrl c ctrl v ho duplicato la mano ok però la metto di qua che schifo allora fra i vari tool che ci sono c'è anche il la possibilità di ruotare oppure di riflettere ok ho riflettuto l'oggetto e lo sbatto sotto la mantellina che questa la metto un po' più sopra in modo che non si vedano il bordo fatto male ok e questa è la mano allora la mano questa mi sembra troppo bassa come al solito devo spostarmi metterla qua adesso quello che vorrei non avere una mano più lunga una mano più corta ok più o meno ci siamo quindi le mani la mano va bene questa serve da accorciare ma non di tanto quindi attacchiamo qui ok le due mani ci sono cosa manca di cappuccetto rosso è non può camminare adesso cappuccetto rosso perché non ha i piedi allora proviamo a disegnare i piedi allora il nostro cappuccetto rosso avrà un piedino fatto più o meno così c'è una gamba con la scarpina ok adesso noi lo facciamo di lo suo colore rosso ok seleziono andiamo a dirgli qua ok che l'abbiamo fatto ok e soprattutto qui perché è troppo stretto vogliamo così no scusate che è venuto veramente ok dandogli rendere curviline non ricelezionate ok questo potrebbe essere il piedino lo vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meno ok per me così è tutto un po' più tondo ok e adesso prendendo ok così perché l'idea essendo proprio un po' chignolo è che il piede il tacco dovrebbe essere più giù perché la punta del piede è qui ok e allora il nostro tacco lo mettiamo qui ok più o meno però non è possibile avere un tacco tanto più basso e il piede alto o viceversa se no il cappuccetto rosso come camminerebbe adesso abbiamo fatto questo piede qui lo sposto un pelino più su ok poi lo caccio sotto poi faccio ctrl c ctrl v glielo metto qua è la stessa altezza è solo rifletto ok e lo spostiamo un po' più sinistra e lo mettiamo sotto allora in teoria il nostro cappuccetto rosso eccolo qui dovrebbe essere più o meno finito allora se guardo il collo i nostri due plidini sono fuori non li vedo così tanto centrali ok l'altra cosa che si può fare per abbellire il nostro cappuccetto rosso è che la mantellina non si mette su e la testa e basta e poi e qui sul petto cosa c'è dovrebbero esserci delle specie di cuciture bottoni come li volete chiamare e allora gli faccio delle x ok ho fatto una x e ne faccio un'altra x ok poi poi entrambe le coloriamo di bianco queste specie di chiamiamole cuciture non sono così glitte quindi andiamo a prendere quel punto l'oggetto e lo curviamo un po' ma bisogna dargli però dentro il riempimento niente ok allora facciamo anche qua muoviamo un po' ok niente riempimento abbiamo questa specie di effetto allora adesso selezioniamo tutte e due facciamo un raggruppa raggruppa poi magari lo impicciolisco un po' perché scusate non le ho selezionate tutte e due adesso si quindi posso fare un raggruppa posso impicciolire un po' e poi ne metto qua personalmente lavoro un po' a occhio e non con regole matematiche adesso vediamo che effetto fa così non è detto che sia buono potrebbe dare l'idea che sia storto ma no così più o meno risposterei un po' più verso destra perché mi sembra troppo torte ok queste sono le nostre cuciture ok il nostro cappuccetto rosso potrebbe essere completato allora una cosa che posso fare selezionarlo tutto fare un ulteriore la gruppa così se lo sposto ok poi un'altra cosa che ho visto bella che si può fare anche un'ombra di cappuccetto rosso allora adesso vado su estensioni o era filtri filtri scusate qua filtro ombre aloni qua si fa ombra che si trova in dentro e fuori fogliata ombra eccolo qua allora anteprima esterna ci dice solo ombra ok e fa praticamente solo l'ombra allora cosa c'è da fare prima di fare tutto questo lavoro prende il nostro cappuccetto rosso fare un c c c c c v così abbiamo la nostra copia ce la sbattiamo sopra poi facciamo filtri ombra proietta ombra il cilice solo ombra ok anteprima diretta abbiamo creato la nostra ombra che adesso sposterò qui ok però fa un pelino pena allora quello che ho visto è che nel trasforma adesso andrò a vedere perché ci ho messo un po' per farlo l'altra volta allora modifica ritrovo il menu perché ce l'ho in testa ma non mi ricordo esattamente non è proprio banale la cosa quindi c'è un trasforma vabbè si può fare anche mi sembra così no eh lo fa proprietà oggetto non è quindi lo leviamo allineamento non è riempimento contorni non è non è neanche nei livelli ma è proprio oggetto trasforma eccolo qua nel trasforma c'è distorsione e gli diamo una distorsione di 10 meno 10 vediamo cosa fa si fa un'applica allora ancora applica 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 questa è l'ombra di cappuccetto rosso possiamo mettere qui per esempio ok ho fatto un'ombra veramente lunghissima allora adesso l'unica cosa da fare è andare su proprietà del documento e sulla larghezza allargare perché se no ok c'è stato giusto giusto allora facciamo proprio sicurezza 500 ok ci sta tutto ok questo è il nostro cappuccetto rosso con l'ombra e poi volendo si può sbizzare dire con una scritta perché magari io che non ho la bravura di disegnare penso che questo pseudo disegno non sia così chiaro che voglia essere cappuccetto rosso allora vado sul testo in posizione qui scrivo con un carattere vabbè anche questo mi va bene ma posso scegliere anche altri i caratteri vabbè ma lasciamo anche il sunshell tanto per quello che voglio fare cappuccetto rosso lo selezioniamo tutto facciamo facciamo diventerà più grosso facciamo rosso contorno e riempimento ok questo è il nostro cappuccetto rosso ok per questo tutorial è tutto se avete qualche dubbio riguardo l'utilizzo di inkscape per questo esatto disegno potete mandare un messaggio qua sotto al video e vi rispondo volentieri per questo tutorial è tutto